Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV come annunciato dagli esperti. Nelle ultime ore sono arrivate nel territorio aretino pioggia, vento e ha fatto capolino anche la neve. Vediamo. Nell'aretino le raffiche di vento più forti della regione, a dirlo sono i dati diffusi dal presidente Eugenio Gianni. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 108 km orari a Sestino. Il vento ha causato alcuni danni nel territorio di Arezzo, intanto la corrente elettrica a San Zeno, dove alcune utenze sono rimaste senza luce, ma anche nella zona Marchionna, via Cimabue e zona Pantano. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco, al lavoro anche i volontari della racchetta. I pompieri sono intervenuti per una tettoia in via Vittorio Veneto e in via Fratelli Lumiera, raddove una grossa lamiera si è staccata dal tetto di un ristorante. Una pianta invece caduta sulla ciclopista che collega la chiusa dei monaci al ponte di Pratantico. Un peggioramento delle condizioni meteo, che ha portato anche tanta pioggia, considerato positivo dagli esperti. Del resto, le temperature registrate fino ad ora non erano certo nella media stagionale. E nelle montagne a retine, Pratomagno e Campigna, grazie alle immagini di Arezzo Meteo e Meteo Bibbiena, ha fatto capolino anche la neve. Uccisi marito e moglie in un incidente ad indicatore, il conducente della Porsche è stato condannato a tre anni, che poi sono diventati due anni e mezzo, grazie ad uno sconto di pena previsto dalla legge Cartabia. Una condanna a tre anni, corrito abbreviato. A dieci mesi di distanza dal drammatico incidente stradale in cui persero la vita marito e moglie, Francesco Diana e Giovanna Mori è arrivata la sentenza per il 44enne che si trovava alla guida della Porsche Carrera che, invadendo la carreggiata opposta, si schiantò contro la Skoda Fabia lungo la provinciale 21 ad indicatore. Il PM aveva chiesto una condanna a quattro anni. Con la riforma Cartabia adesso, se il titolare del distributore non presenterà appello, la condanna si ridurrà automaticamente a due anni e sei mesi. E nel maggio 2023, la Porsche non era di proprietà dell'imputato, accusato di duplice omicidio stradale, ma di un cliente che gliel'aveva affidata per lavarla. Il benzinaio l'aveva presa per un giro. Durante il breve tragitto, lo schiantò fatale. In direzione Arezzo, la perdita di adderenza sulla strada, quindi l'invasione della corsia opposta. Francesco Diana morì sul posto a seguito del violento impatto. La moglie a distanza di poche ore, dopo un disperato volo verso l'ospedale fiorentino di Careggi. Unico sopravvissuto è il figlio, un 26enne. La famiglia stava tornando a casa alle ville di Terra Nuova a Bracciolini. Dopo lo schianto, la Porsche proseguì la propria marcia per 200 metri, pur avendo perso una ruota. Sotto accusa nel corso delle indagini finì così la velocità del mezzo. La difesa in aula, invece, ha sostenuto che l'invasione di corsia fosse dettata da una fatale distrazione. Il procuratore Roberto Rossi, ex procuratore capo di Arezzo, è tornato nel territorio aretino per salire di nuovo in cattedra per le lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Intratevere e Tarno. Oggi, agli studenti del Valdarno, ha letteralmente ricostruito quello che accadde ormai 21 anni fa, ovvero la morte del sovrintendente Emanuele Petri per mano delle nuove BR. L'ultimo attentato terroristi, l'ultime vittime del terrorismo, sono state qui ad Arezzo. Marzo 2003. È una domenica mattina. Io quel giorno ero il magistrato di turno, cioè il pubblico ministero che si deve occupare delle emergenze. Mi chiamano e mi dicono una sparatoria, morti e feriti a Castiglio Fiorentino. Per 22 anni è stato in prima linea rappresentando in tribunale la procura di Arezzo, che per 8 anni ha guidato come procuratore capo. Decine e decine, i casi dei quali si è occupato, molti di questi, hanno fatto la storia della provincia di Arezzo e non solo, come le indagini per lo smantellamento dell'ultima cellula delle BR. Gli ultimi terroristi sono stati arrestati grazie a queste indagini. Fine del terrorismo. Roberto Rossi è salito in cattedra al liceo Benedetto Varchi di Montevarchi per le lezioni di educazione civica organizzate dall'associazione Tratevere Arno. Come lo Stato democratico può reagire all'emergenza terrorismo il titolo dell'incontro. È il dottor Roberto Rossi, attualmente procuratore generale ad Ancona. Già, come coloro che ascoltano sicuramente già sapranno, procuratore capo di Arezzo. E se posso aggiungere anche un amico. La materia di cui parlerà il dottor Rossi la spiegherà lui stesso. Parleremo di terrorismo, di cosa ha rappresentato il terrorismo in questo paese. Anche perché il terrorismo ha avuto un episodio, ahimè, drammatico, proprio nella provincia di Arezzo. È l'episodio che portò all'uccisione di Emanuele Petri. Quindi è bene che questi ragazzi sappiano cosa c'è stato. Sappiano cosa è stato il terrorismo e sappiano qual è stato il sacrificio di coloro che si sono posti a questa violenza ed hanno difeso la democrazia nella quale essi vivono anche grazie al sacrificio di queste persone. Per i nostri ragazzi poter mettersi a confronto, ascoltare le parole di chi vive in prima persona, le istituzioni, è veramente una ricchezza e un regalo che l'Associazione Intratevere Arno ci ha fatto alla nostra scuola. Tra i prossimi appuntamenti anche uno dedicato alle donne che nell'Aretino hanno ricoperto ruoli molto importanti. Farò una lezione sull'articolo 3 della Costituzione, ma mi sono concentrata sulle donne importanti di Arezzo nella storia che hanno conseguito un primato per cercare di non andare troppo nel generico. Siccome molte delle lezioni sono di studio del territorio, ho fatto questa ricerca su queste donne dell'Aretino. La Sala della Camo nel Palazzo di Fraternita di Arezzo ha ospitato oggi un convegno sulla libertà di espressione nelle democrazie di ieri e di oggi. Un tema di particolare attualità, l'iniziativa è della Facoltà di Giurisprudenza di Siena in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Toscana e l'Ordine degli Avvocati del Foro di Arezzo. L'evento è stato presieduto da Giovanni Canzio, Presidente Emerito della Corte di Cassazione che sentiamo ai nostri microfoni. Un tema importante garantito dalla nostra Costituzione, viene rispettato secondo lei a pieno? Beh, io direi che in Europa e in Italia non ci possiamo proprio lamentare. Se guardiamo un po' in giro nel mondo quello che succede, per favore, non ci lamentiamo di questo straordinario bene, valore che abbiamo grazie alla nostra Costituzione, che non tutti ce l'hanno. La nostra Costituzione l'ha messa tra i primi e più importanti diritti fondamentali della persona la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di potersi esprimere liberamente. Fa parte della civiltà europea e noi dobbiamo essere molto orgogliosi. E dobbiamo anche però immaginare che non tutto è irreversibile. Basta guardarsi intorno, a pochi migliaia di chilometri da noi, dove la libertà di mobilizzazione del pensiero è conculcata, è calpestata, addirittura vediamo che ci sono anche esiti davvero drammatici, tragici nella storia. Quindi io credo che l'Italia debba essere fiera e orgogliosa di essere ai primi posti nella garanzia di questo diritto fondamentale. Un diritto che fa i conti con l'era di internet, dove però l'impianto normativo ancora deve raggiungere insomma i livelli? No, questo oggi sarà un po' oggetto del nostro convegno. Io porrò infatti alcuni quesiti ai relatori su questo tema. Cioè come coniugare la libertà di manifestazione del pensiero, che significa esprimersi con assoluta schiettezza, sincerità, senza confini, senza perimetri, con l'esigenza però di non fare male. Perché il difficile rapporto oggi è con i media allorquando si convertano in hate speech, quel linguaggio d'odio, perché il linguaggio d'odio è qualcosa che non appartiene più alla storia della libertà di manifestazione del pensiero. L'altro aspetto però, converso accanto a questo esasperato uso della libertà di manifestazione del pensiero in danno di altri, cioè con l'hate speech, c'è l'altro, ecco parlavo di intersezioni infatti, c'è l'altro limite che io considero sia la cancer culture, cioè il mettersi il bavaglio da soli, insomma, il rendere opaco il nostro pensiero, non riuscire a dirlo con la schiettezza e la sincerità con cui sarebbe necessario. E poi l'altro aspetto, oggi lo porrò come terzo quesito, il rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e verità. Qual è il rapporto? Cioè c'è un rapporto, occorre che ci sia un nucleo di verità in quello che diciamo, i cittadini hanno diritto alla verità o hanno diritto a recepire qualsiasi pensiero che venga manifestato dall'alto. Ecco, questi sono tre aspetti sui quali fortunatamente, io dico, la nostra civiltà, la nostra cultura è chiamata a confrontarsi, altrove non c'è neppure la possibilità di esprimersi, quindi immaginate se possiamo parlare di confronti, di intersezioni, di napoli. Lunedì una tappa aretina del Giro d'Italia che stanno facendo Enrico Costa e Luigi Marattin dal tema Fisco e giustizia da liberali, appunto un modo per discutere dal basso quali siano le fondamenta di una visione politica liberal-democratica partendo proprio da economia e giustizia, in quali valori credono, in quali politiche coloro che non si riconoscono nell'attuale destra o nell'attuale sinistra. L'incontro aretino è in calendario il prossimo 26 di febbraio alle 18 presso la Borsa Merci di Arezzo. Oggi e domani al Congresso Nazionale di Forza Italia che si è aperto a Roma al Palazzo dei Congressi sono presenti anche i delegati aretini indicati dopo il congresso provinciale dello scorso dicembre. La delegazione è guidata dal coordinatore provinciale Bernardo Mennini assieme a Teodoro Manfreda, Jacopo Apa, Federico Scapecchi, Alessia Paola Salvi e Giuliano Del Pia. È una tappa importantissima, ha detto Mennini, che segna un momento straordinariamente importante per la crescita del partito generato dall'intuizione e dalla capacità del nostro presidente Silvio Berlusconi. E allora, proprio nel momento della politica, tra poco scatterà la par condicio per le imminenti elezioni, il ruolo del Corecom della Toscana, come in tutte le altre regioni d'Italia, sarà davvero fondamentale per garantire appunto una pluralità di accesso proprio ai mezzi di informazione. Questa e tante altre sono però le attività del Corecom della Toscana. Oggi spiegate anche ad Arezzo perché il tour appunto del comitato ha fatto tappa proprio nella nostra città. Dato che ha un ruolo fondamentale all'interno della comunicazione, ci sembrava importante che tutta la Toscana conoscesse l'organismo, conoscesse noi componenti che siamo in carica dallo scorso giugno e che insomma abbiamo già fatto molte cose e tante abbiamo in ponte, le stiamo organizzando. Ieri c'è stata una bellissima presentazione, una bellissima conversazione con 300 studenti di licei fiorentini abbiamo parlato di hate speech, di violenza di genere, insomma tante sono le iniziative e avevamo bisogno che tutte le province toscane conoscessero noi e le nostre iniziative. Il Corecom tour arriva ad Arezzo, quella retina per il comitato regionale per le comunicazioni è la settima tappa in Toscana. Un giro in tutte le province per ricordare le importanti funzioni del comitato. Dalla vigilanza nel settore radiotelevisivo, a breve anche con il controllo del rispetto della parcondicio nelle elezioni, al patentino digitale per circa 400 studenti all'anno, fino all'organismo di conciliazione delle controversie tra cittadini e gestori telefonici o piattaforme web e pay tv. Noi incentiviamo le buone pratiche di comunicazione con vari bandi che facciamo ogni anno, ci occupiamo della media education, dell'educazione digitale soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie con un progetto, il patentino digitale, che è un progetto di respiro nazionale. L'altra grande questione su cui il Corecom è impegnato è tutto il tema delle controversie telefoniche perché il Corecom svolge la funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie e i gestori telefonici. In questo senso svolgiamo una funzione a titolo gratuito, arrivano ogni anno alcune migliaia di istanze, abbiamo superato negli anni oltre 100.000 istanze e l'83% trova una soluzione nella conciliazione. Abbiamo riscontrato che con la piattaforma digitale che c'è da sei anni, il concilia web, sono addirittura diminuite un po' le domande, cioè le domande che vanno avanti nella conciliazione perché spesso vengono concluse in sede di prima istanza. Io chiedo sempre, anche quando vado nelle altre città, di istituire magari presso gli urpe dei comuni o comunque in una sede istituzionale, dei punti d'appoggio per le persone che non hanno in casa la possibilità di poter inoltrare le richieste. Il Consiglio regionale guarda al Corecom come un'interfaccia anche tra l'istituzione e i cittadini e quindi benissimo che oggi siamo qui ad Arezzo, una terra che, come è stato detto, è da me molto conosciuta e una sala, questa dei grandi, che è altrettanto conosciuta e mi fa piacere ovviamente essere qui in questa occasione. Il Corecom è di tutti, poi noi abbiamo il piacere che il Presidente, appunto, è un aretino, Meacci. Io come consigliere di opposizione ho votato a favore tutte le cose che presenta Meacci perché le trovo di un grande valore. Come trovo di grande valore questa iniziativa di diffondere i lavori, appunto, che svolge e le funzioni che può svolgere il Corecom in tutta la regione toscana. In Commissione Quinta, dove faccio parte, Commissione Istruzione e Formazione, l'abbiamo audito varie volte e sempre con soddisfazione i propri progetti. E ad Arezzo l'importante tappa anche al Museo dei mezzi di comunicazione. Io coltivo da anni un rapporto speciale con il Museo dei mezzi della comunicazione che ricordo essere uno dei pochi musei di rilevanza regionale della provincia di Arezzo. Anni fa è stata fatta una brillante mostra all'interno del Palazzo del Pegaso per far conoscere questa attività. La regione è stata sensibile, gli va riconosciuto al Presidente Gianni di essere intervenuto post i danni che sono stati fatti nell'alluvione di luglio. C'erano stati dei movimenti, dei contatti anche attraverso la mia figura e quando si cerca di fare bene nell'interesse del territorio siamo tutti contenti. Parliamo adesso invece di cancro al seno, un dispositivo per la presso terapia che ha donato dal Calcit al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Funzionale del San Donato. La consegna questa mattina. Uno strumento per la presso terapia che permetterà alle donne operate di tumore al seno di avere un percorso riabilitativo più efficace. È quanto donato dal Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo. L'alleanza tra il pubblico, tra i servizi pubblici, tra l'associazionismo, il terzo settore è fondamentale perché spesso e volentieri, oggi come non mai, attraverso le associazioni veniamo a conoscere i bisogni reali di salute della popolazione e quindi insieme allearci. Una donazione al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione assieme a Quattro Sicletta per un valore complessivo di 12.000 euro. Direi che il Calcit è proprio entrato nel patrimonio di questa città e noi lavoriamo anche per conservarlo. Il dispositivo di presso terapia sarà impiegato nel percorso post-operatorio. Questa donazione si inserisce nel nostro percorso multidisciplinare dove ovviamente nel ruolo del chirurgo, dell'oncologo e dell'arioterapista ci sono anche tutti quegli strumenti, procedure e collaborazioni con colleghi che servono al recupero dopo i nostri trattamenti, in questo caso dopo la chirurgia. Nel 2023 il reparto di riabilitazione funzionale ha effettuato 70 consulenze su donne operate al seno, 25 sono state prese in carico con un percorso riabilitativo ambulatoriale. Laddove vediamo delle donne operate al seno che secondariamente sviluppano un linfedema secondario, quindi coadiuviamo il trattamento di terapia manuale, quindi l'infodrenaggio manuale con il bendaggio anche l'asto compressivo e a questo aggiungiamo anche la presto terapia per implementare il risultato ottenuto. Termina domani ad Arezzo il primo festival della salute mentale alla libreria Feltrinelli, l'incontro con lo scrittore Pietro Grossi che ripercorriamo nel prossimo servizio. Anche Pietro Grossi tra i protagonisti del festival della salute mentale. Arezzo per una settimana si è infatti trasformata nella capitale del benessere e della salute con oltre 30 eventi per parlare di futuro e di inclusione, diversità, memorie e relazioni. Entropie, creatività, flow, il meno conosciuto e più efficace dispositivo della mente umana, il titolo dell'incontro alla Feltrinelli Pointa con Pietro Grossi, vincitore di alcuni dei più importanti premi letterari italiani. Oggi parlerò in particolare di un particolare stato mentale di cui ho scoperto la ricerca poco tempo fa, che si chiama flow e che è, volendo molto riassumerlo, lo stato di più alta concentrazione ed efficienza dell'essere umano. È uno stato mentale che io senza saperlo, che ha, se io lo sapessi, salvato la vita a me e anche a molte persone che mi stanno intorno e che tutti noi possediamo per larga misura senza appunto saperlo, pur essendoci una ricerca di 60-70 anni dietro. La dell'empatia ha molto a che fare con quello che io faccio, che è passare del tempo, per me buona parte del mio tempo, del tempo di più alta mia qualità, a mettersi nei panni degli altri, a cercare di capire com'è la vita vista da prospettive diverse. Credo che questo, non so se si è perso o no, però questa per me è l'empatia, è la capacità di spostarsi dal nostro ridotto e piccolo angolo di mondo. Dopo il sold out al Teatro Petrarca per la bellissima conferenza del professor Massimo Cacciari arriva il quarto appuntamento del Festival Arezzo Science Lab con Aldo Cazzullo alle 18 di domani presso l'auditorium Guido d'Arezzo del Centro Affari. ci sarà appunto l'intervento del popolare personaggio del giornalismo e della televisione basato sul suo ultimo lavoro, quando eravamo i padroni del mondo. Proseguono gli appuntamenti di Arezzo Science Lab, domani in città arriva Aldo Cazzullo, dov'è l'appuntamento e di cosa parlerà? Sì, buonasera, l'appuntamento è alle ore 18, inizialmente alle ore 21, ma è stato anticipato alle ore 18, l'auditorium del Centro Affari, tra l'altro una struttura nuovissima con un'acustica fantastica molto bella. Lo spettacolo teatrale parlerà dell'ultimo libro che ha scritto Quando eravamo i padroni del mondo, che parla, tratta di come la storia romana, l'impero romano, le sue tradizioni abbiano ancora oggi delle contaminazioni all'interno della nostra società, dell'architettura sociale del nostro mondo e del nostro modo di vivere. Quindi è un argomento estremamente attuale, estremamente interessante. Ecco, attualità, divulgazione scientifica, ma la portata di tutti, questo è l'obiettivo di Science Lab. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Sì, questo è molto vero, perché all'inizio era stato definito un po' un festival di nicchia, invece poi, con il passare del tempo, i numeri, l'attenzione e anche i riscontri positivi ci hanno fatto capire, insomma, che sono argomenti, seppur complessi, di grandi attualità, di grandi interessi, questo sicuramente per noi è un grande motivo di orgoglio, per noi e soprattutto per la città di Arezzo, che spesso viene accusata di essere un po' lacunosa culturalmente, di avere un approccio culturale non all'altezza, invece in questo caso ha dimostrato l'esatto contrario. Gli altri appuntamenti saranno proprio per l'appunto il sabato dopo, quindi il 2 marzo, con Michele Punturo, che è un aretino, diciamo, un'eccellenza aretino nel mondo, è un nostro fisico che ci parlerà di come delle onde gravitazionali, quindi del progetto Einstein Telescope, che è un progetto rivoluzionario di grande interesse mondiale, diciamo, possiamo dire, quindi un aretino che avrà Arezzo a parlare di onde gravitazionali, quindi aumentiamo ancora il livello e sicuramente, insomma, una grande soddisfazione per noi, per la città, e per i nostri sponsor, per le persone che ci hanno appoggiato. E siamo allo sport, è ancora, insomma, prematuro perché si gioca, ovviamente, alle 20.45, capire come finirà Arezzo-Ferrara, indubbiamente sono punti importanti per gli Amaranto. Intanto, però, questa mattina in Comune c'è stato l'incontro tra l'amministrazione comunale, proprio l'Arezzo Calcio, è presente il sindaco di Arezzo, Alessandro Grinelli, gran parte della Giunta e, dall'altra parte, ovviamente, il presidente Manzola di Sabatino Selvagge e tutto il gruppo di tecnici per parlare del nuovo stadio. È stato un incontro interessante e positivo, ha detto Grinelli, ci siamo confrontati sulla proposta progettuale, ambiziosa e senza dubbio importante. Entro aprile la società Amaranto presenterà al Comune un documento di fattibilità. Parliamo adesso, invece, del campionato italiano di ciclocross che vedrà impegnati i Vigili del Fuoco, proprio domani, al Parco del Pionta. Ricordare Maurizio così è una cosa bellissima, lui ne sarà orgoglioso, io ne sono emozionatissima. È intitolata Maurizio Ponti, caporeparto prematuramente scomparso a pochi mesi dal pensionamento, la sedicesima edizione del campionato italiano di ciclocross organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Maurizio, io come ho detto, l'ho conosciuto, l'ho visto poche volte perché mi sono insediato a dicembre dell'anno scorso, però tutte le volte che lo vedevo metteva allegria al comando. Ponti è stato poi commemorato anche con la consegna di una targa a ricordo nelle mani della moglie. Che lo ricorda con le ali, la cosa mi emoziona tanto, ma ne sono veramente felice e lui ne sarà orgoglioso. La manifestazione è in programma sabato 24 febbraio al Parco del Pionta e vedrà la partecipazione di ciclisti provenienti da 25 comandi di tutta Italia. Qua ad Arezzo abbiamo l'enorme fortuna, grazie alle capacità che in questi 60 anni il gruppo sportivo ha dimostrato, di avere appunto sportivi nei Vigili del Fuoco, non solo nella ginnastica ma anche nel ciclismo siamo appunto tra il comando che ha vinto nel 2023 il primo posto nel complesso delle prove e ha conquistato poi appunto l'onore di ospitare questo importantissimo evento che ha un importantissimo valore sportivo a livello nazionale che metterà in luce la città di Arezzo e il Parco del Pionta, ma anche un importantissimo, forse l'aspetto principale, dicevo un importantissimo aspetto dal punto di vista sentimentale per il ricordo di Maurizio Ponti. Questo mi rende orgoglioso del fatto che i miei Vigili si impegnano sia nell'attività sportiva, quindi di corollario per quella che è l'operatività del comando, che anche poi nelle attività istituzionali che servono a riportare la capacità operativa dei Vigili ogni qualvolta poi è necessario. E per l'AMNBC Servizi Arezzo sarà invece un weekend di pausa in attesa della seconda fase del campionato, portata già però a casa come sappiamo con grande successo la salvezza appunto con grande anticipo. Nelle prossime ore in campo tante squadre giovanili e di minibasket, proprio della scuola basket Arezzo, che si incamminano verso la parte decisiva della stagione. In questo momento la Svap può vantare ben cinque squadre in testa ai rispettivi campionati e in piena lotta proprio per strappare il pass per le finali regionali. Un weekend pieno anche per il minibasket Nova Verta, che vede scendere in campo tutte le formazioni maggiori, ovvero esordienti, aquilotti e gazzelle. Proprio domani sarà il turno della squadra di basket integrato del centro tecnico BM Sba, che giocherà al palazzetto di Sallorentino, un triangolare con la Dukes Sansepolcro e con la Synergy Valdarno. E questa era l'ultima notizia per quanto mi riguarda. Grazie per l'attenzione e arrivederci.